La faccia brutta di Viale San Lazzaro. È da questa grande arteria stradale, l'ingresso principale a ovest di Vicenza, che a noi di Rete Veneta arriva l'ultima segnalazione. Ce la invia Antonio, un nostro telespettatore. Ecco il suo messaggio. Spettabile redazione, in questi giorni l'amministrazione del Comune di Vicenza ha proposto di riqualificare Viale San Lazzaro. Vicino a questo viale c'è una bella villa. Peccato che ci siano anche i resti di un distributore di benzina e annesso degrado. Attenzione, Antonio, il nostro telespettatore sta giustamente puntando un faro su una zona della città che ha bisogno di rinascere, una delle arterie principali di Vicenza e, ci segnala, un cono d'ombra, un distributore di benzina dismesso. Ci richiamo con le nostre telecamere sul posto e, voilà, troviamo in effetti quest'area di servizio, anzi, lo scheletro di quel che fu un'area di servizio. E come riferito dal nostro telespettatore, questo parcheggio corrisponde proprio con l'ingresso di una villa storica. Insomma, il quadro c'è tutto. Peccato che sia un quadro che dipinge una natura morta, o meglio, una natura degradata. Come ci dice Antonio e come conferma chi qui ci lavora e ci vive. Essendo all'entrata della città non è bello vedere, insomma, questi palazzi abbandonati e la sporcizia che c'è. Poi è un peccato perché dietro c'è una bellissima villa che non viene vista e poche persone sanno dell'esistenza. Fa male veramente, a parte che, onestamente dovrei dire, sono contento perché ho un parcheggio di fronte, ma però non sarebbe bello così, non è giusto che sia così. In effetti, da quel che raccontano i cittadini, in quest'area ci sono rifiuti, scarpe, vestiti abbandonati da qualche disperato che ha passato qui la notte, sporcizia che si è accumulata col tempo. E' tutto proprio davanti a un monumento storico come questa villa. Vicenza, se vuole rinascere, deve ripartire proprio dalla valorizzazione del suo enorme patrimonio architettonico e culturale. Insomma, è una questione anche di buon gusto, di opportunità. E' giusto che, in uno degli ingressi principali di Vicenza, proprio davanti a una villa storica, ci sia un buco nero del degrado come questo? Il nostro telespettatore, Antonio, conclude il suo messaggio con una domanda rivolta a noi di Rete Veneta. Avete già segnalato questo degrado all'amministrazione Rucco? Beh, no, Antonio, non l'avevamo ancora fatto, ma adesso, grazie alla tua segnalazione, lo stiamo facendo con questo servizio. E presto andremo a chiedere conto all'assessore competente. Quindi, la questione per noi non finisce qui, ma continua.